Ah, 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 uuuuuh Bambini e ragazzi affascinati dal gioco della palla ovale si sono divertiti la scorsa domenica all'open day organizzato dal Sulmona Rugby negli impianti sportivi dell'incoronata. Si è registrata una buona partecipazione che è stata sicuramente favorita dalla bella giornata. La società, partendo proprio dalla base, nutre forti ambizioni nei confronti dei giovani. Come tutti gli anni proviamo a fare tutte le categorie, dalla 8, la 10, la 12, la 14. I genitori nuovi si sono avvicinati a noi e ci stanno sostenendo in questa promozione del nostro sport che è il rugby. Così Giovanni Forcucci, papà del nazionale Anderventi Alessandro e da molti anni stretto collaboratore della società del presidente Mauro Ranalli, illustra il programma delle attività giovanili che sono già cominciate in vista della nuova stagione. Lunedì, mercoledì e venerdì, tre allenamenti alla settimana, i più piccoli due, mercoledì e venerdì. Bambini dai 4 ai 14 anni hanno seguito con passioni i loro tecnici per apprendere le nozioni fondamentali del rugby. I placaggi, come avere la palla. È facile o difficile giocare al rugby? Dipende da quale ruolo giochi, se è un pilone devi riuscire a placcare bene, quindi dipende sempre dal ruolo. Se non lo riesci a fare bene è facile, se non lo riesci a fare bene è difficile. Quale ruolo che piace a te? Il pilone. Mi piace tantissimo. Stamattina ti sei divertito? Sì, mi sono divertito molto. Presenti all'Open Day anche diverse bambine a dimostrazione che il rugby non è uno sport solo per maschi. Di dove sei? Di Popoli. Come mai ti sei avvicinata al rugby? Mio papà giocava e un giorno ha detto prova anche tu e sono venuta e mi è piaciuto. Cosa ti hanno insegnato questa mattina? Allora ci hanno insegnato il passaggio, come tenere la palla, passare la palla sia dietro la schiena che dietro il collo. E adesso dobbiamo fare un gioco che abbiamo una cintura e a posto di placcare dobbiamo toglierci questi e urlare flag e vale come un placcaggio. Questa è una cosa che ci sorprende ma che la federazione sta investendo molto sull'attività del rugby sulle ragazze. La federazione pensa che quelle ragazze diventeranno mamme e manderanno i loro figli a giocare al rugby. L'intera mattinata è stata caratterizzata da tanto entusiasmo allo stadio del rugby dell'incoronata con il terreno di gioco e gli spogliatoi adeguatamente sistemati. Pensiamo con i ragazzi di accompagnarli nella loro crescita in un ambiente sano, in un ambiente dove si rispettano le regole, dove c'è condivisione delle scelte che facciamo. E sembra che i genitori ci stiano dando sostegno in questa nostra proposta. E' ripartita anche l'attività dei senior che in mattinata hanno svolto i test sulla pista di atletica leggera e nel pomeriggio hanno disputato un triangolare con Pescara e Chieti. E' stato un ottimo banco di prova in vista della Serie C2. Anche quest'anno proveranno a vincere il campionato ricordando che l'anno scorso sono arrivati i secondi. Quindi l'attività è larga e noi cerchiamo sempre di portarla a termine. Un'attività dunque a 360 gradi per la storica società sulmonese che porta in alto i valori del rugby nel panorama abruzzese. Sulla nostra vallata siamo solo noi e c'è una bella attività nella scuola tedeschi di Pratola. Lì veramente c'è una bella accoglienza, anche se noi lavoriamo anche nelle scuole a Sulmona. Invece per quanto riguarda tutto il territorio diciamo che quest'anno abbiamo perso una squadra di Serie A all'Aquila e quindi questo è un po' gerattrista. In tutti i modi il movimento sta sempre diciamo il suo obiettivo è quello di curare la qualità. Abbiamo due squadre in Serie B con il Paganica e l'Avezzano. Abbiamo una sola squadra di Serie A all'Aquila. E poi abbiamo nuove società nel nostro territorio come una da Tessa. Abbiamo una società nuova vasto quindi diciamo che il rugby sta provando ad allargare un po' i propri confini. Credo che insomma riusciremo a portare avanti questo progetto anche a livello regionale. Certo che siamo un po' qualche risultato positivo con la nazionale ci aiuterebbe molto di più. Ah 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 Grazie a tutti.